Domenica 27 gennaio si è tenuta l'inaugurazione dell'Officina del Panino presso il New Blue Angel, la sito in località Trentova ad Agropoli. L'iniziativa è nata dall'idea di Antonio Volpe, proprietario del locale, e di Franco Marino, chef cilentano noto anche per la sua partecipazione al programma televisivo di Rai 1, la prova del cuoco. Grazie all'Officina del Panino, per chi vorrà sarà possibile degustare diverse tipologie di panini gourmet, interamente realizzati con prodotti locali. Siamo in compagnia del consigliere delegato Franco Di Biasi del Comune di Agropoli. Allora, questa sera è una grandissima serata, una grandissima iniziativa, perché qui riguarda un'attività che si trova locata nel vostro comune. Eh vabbè, prima di tutto non sono qui in qualità di consigliere, ma di amico e cliente del Bar Blue Angel, come dici tu, anche se più conosciuto, e sarebbe anche giusto chiamarlo come lo chiamano tutti, da Zifiore. Ancora una volta Antonio ci ha sorpreso, è un imprenditore serio, costruttivo, ci vorrebbe più gente come lui, ha rilanciato l'Eno Gastronomia, una cosa che noi dovremmo pubblicizzare ancora di più, se non ci vogliamo affidare sempre alle solute cose, quando parliamo di turismo. Ranciare, sentivo prima lo chef marino che parlava di tradizioni, queste sono le cose che noi dobbiamo far conoscere agli altri, valorizzare il nostro territorio parte soprattutto da questo. Dovrebbe essere una cosa sulla quale puntare. Il mare può attrarre, parlo di Agropoli, fino a un certo punto, poi ci dovrebbe essere tutto il resto che dovrebbe trainare il vero turismo nelle nostre zone. e come dicevo ci vorrebbe più gente come Antonio, ce ne sono alcuni, ce ne sono tanti nel nostro territorio e il dovere di una buona amministrazione dovrebbe essere quello di stargli vicino, di aiutarli a realizzare questi sogni che sono sogni per loro fino a un certo punto ma che portano gente nel nostro territorio. Voglio fare l'invito ad assaggiare tutti i panini perché veramente sono eccezionali e rilangiano i nostri prodotti, il panino con la frittata e quello con la mozzarella sono veramente buoni, io già ho dato. Benissimo, già avete assaggiato. Quindi invitiamo tutti i suoi concittadini e non solo coloro che ci guardano a venire qui al New Blue Angel di Agropoli. Sì, invitiamo tutti a venire qui e invitiamo la gente a sostenere questo tipo di attività a prescindere perché fanno bene ai nostri imprenditori e fanno bene al territorio per portare avanti le nostre eccellenze. Grazie a tutti.